Dopo l'esito del referendum, dubbi non ci sono mai stati e presto arriverà anche il placet ufficiale. Nella seduta in programma al prossimo 27 maggio, la giunta regionale, con un'apposita delibera, approverà in maniera definitiva la legge con cui era stato avviato il percorso di fusione tra i comuni di Figline e Incisa, Piantisco e Castelfranco, e uscendo dal Valdarno tra fabbriche di Vallico e Vergemoli, provvedimento che poi verrà ratificato nel prossimo Consiglio regionale. Già ratificato, invece, dopo l'esito negativo delle urne, il no alla fusione dei comuni dell'Isola d'Elba. Rispetto all'ordinamento giudiziario provvisorio con cui era stato indetto il referendum, la legge che sta per ricevere l'ultimo in primaturo è decisamente più complessa ed ha visto l'inserimento di alcuni emendamenti. La presenza dei sei comuni interessati in altri enti sovracomunali, infatti, ha creato dei distinguo. Per esempio, come ha sottolineato il primo cittadino di Piantisco, Nazaneno Betti, Piantisco e Castelfranco resteranno comunque nell'unione del Prato Magno, mentre l'unione dei comuni tra Figline e Incisa col Comune Unico non avrà più ragione di esistere. Ratifiche a parte, gli amministratori valdarnesi hanno già incontrato l'assessore regionale competente Vittorio Bugli, con cui sono stati approfonditi molti aspetti legati al Comune Unico, come l'erogazione dei finanziamenti e il commissariamento dei comuni che scatterà dal 1 gennaio. In poche parole, c'è ancora molto da lavorare.